Ci fa anche un mostro? Mi permette un attimo, signora? Prego. Questo è l'ultimo numero uscito. Sì, 23 rossalissari. 3 a caso. Fate il vostro gioco, signora. Tutto avanti vicino dello zero. Grazie. Ok. 10.000 dollari sul 9. Bene. En plein, chez vous, carré, terzina e dozina. 3.000 dollari sulla seconda colonna. 1.000 ampere in manche e 2.500 dollari sulla seconda colonna. Rien ne va plus, monsieur. Le jeu sont faits. 9. Rouge ampere in manche. Magnifico, come hai fatto? È semplicissimo, soprattutto per chi come me è laureato in matematica pura e scienze propedeutiche. Grazie.